No, per me questa decisione è una grandissima opportunità, è un modo anche per mettermi in gioco perché l'ultimo periodo non è stato facile, anche a licenza eravamo partiti con altri obiettivi e poi purtroppo ci siamo ritrovati in fondo alla classifica e non siamo più riusciti a risalire quindi per me questa è una categoria nuova, è una nuova esperienza e per me questo è uno stimolo in più allora il gioco che fa mister per me ma penso che anche per i miei compagni è un tipo di gioco nuovo cioè ci vuole un po' di tempo per amagamarlo, è un calcio molto propositivo, fatto di palleggio come posso dire, a 32 anni non si riesce mai ad imparare, è un lungo momento di gioco e sono contento di poter imparare ancora ci vuole un bel tempo e è una vera ora di cominciare questa avventura poi a me, io ho risolto anche in questo stadio, inserì nel 2008, mi spiega anche un forte appena a me, io ho risolto anche in questo stadio, inserì in questo stadio, inserì in questo stadio, inserì in questo stadio